Ciao a tutti e benvenuti nella Marvel Wow Oggi non sarà all new perchè abbiamo capitato l'America Però sarà da un certo senso all new perchè contiene i nuovissimi invasori Allora, questo è il titolo, nuovi amici Nuovo inizio, 48 pagine, 2,90 euro E' scalato il prezzo perchè prima costava 3,50 Allora, questo è il numero 16 E allora, il giornalino è bellissimo Ma non sto fissato con sto allora Qua contiene i nuovissimi invasori, vabbè, capitano America Allora, dei soldati è il titolo degli invasori E intanto, vabbè, vediamo Allora, gli invasori sarebbero i primi 4 personaggi inventati dalla Marvel Ovvero, Namor, Submariner, Capitano America, Bucky, noto come soldato d'inverno E... E... Jim Hammond La torcia umana originale E' bellissimo Ehm, diciamo che sono quasi tutti i miei personaggi preferiti Questa copertina è bellissima Ehm, il titolo pure è bello Non aspettate Dei e soldati Qua, questo, se non sbaglio, Jim Hammond Vabbè, questo è uno dello Shear Questo è Capitano America, Namor, eccetera Ehm, vi consiglio molto di prenderlo Come potete vedere qua Ehm, il povero Jim Hammond Ehm, combatterà contro gli Shear E dovrà, eh, recupererà la sua memoria Che è stata persa Allora, questo è Marvel Now Ovviamente hanno sbagliato E della Marvel Wow Allora, Mr. T e i suoi amici Ehm, qua possiamo vedere Namor Beh, qua dirà che è un guardiano della galassia numero 0 Che farò la recensione in seguito Questo è il prossimo fumetto di Capitano America Che uscirà il 9 ottobre E niente, per questo video è tutto E ci vediamo alla prossima